Prova, 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 eccoci, rientriamo, siamo nella seconda ora di questa chiacchierata solo per noi, solo per chi passa di qui, tranne poi qualche video che verrà caricato online, Dariana mi ha un momento lasciata perché è un po' affollato questo palco in questo momento, grandi saluti, ciao, 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 e andiamo a raccontare di, mi viene da dire un progetto, ma in realtà più di un progetto, insomma una serie di elementi che si legano uno all'altro e quindi andiamo a raccontare con i nostri vari ospiti, ricordami un attimo il nome, Elisabetta Sanna, Elisabetta Sanna ci parla di un viaggio, qualcosa che porta il nome di viaggio, il viaggio con Clara che ci dà un po' l'inizio a tutto quanto se hai voglia di dare il via a questa chiacchierata. Va bene, va bene, allora sono Elisabetta Sanna della cooperativa sociale Mafalda, io lavoro come responsabile del servizio di assistenza all'inclusione scolastica per allievi con disabilità nel Pinerolese e all'interno di questo progetto, di questo servizio, abbiamo deciso di partecipare ad un bando dell'impresa con i bambini sulle comunità educanti. Questo progetto nasce a ridosso della pandemia con l'intento di andare a lavorare sulla comunità educante per cercare di sostenere e ampliare la comunità educante soprattutto dopo un periodo di grande sofferenza soprattutto tra i bambini e gli adolescenti. Quindi il nostro intento nasce e vuole appunto cercare di andare a sostenere queste fasce d'età. Il progetto che la cooperativa Mafalda ha deciso di presentare ha anche come obiettivo quello di mettere insieme più realtà possibili del territorio per cercare di far colloquiare queste realtà. I partner del progetto sono molti, abbiamo il CIS di Pinerolo, il Comune di Pinerolo, controllo solo perché non voglio dimenticare nessuno, la cooperativa sociale Cronos e abbiamo la rappresentante che è Alessandra, l'associazione Artena, l'associazione di volontariato Oratorio San Domenico, la città metropolitana di Torino, il consorzio di formazione, innovazione e qualità, l'istituto comprensivo 1, l'istituto Porro e poi abbiamo delle collaborazioni esterne con Libro Aperto e con Pirilampo, l'associazione Pirilampo che ha fatto delle attività con noi. Il progetto è molto complesso, le attività sono molteplici, diciamo che i quattro ambiti grandi che noi abbiamo identificato su cui lavorare sono dell'erogazione di attività formative e informative, all'interno del quale poi vi parlerà Alessandra dei patti digitali, l'organizzazione di eventi e attività culturali, la riqualificazione di alcuni spazi di aggregazione e abbiamo insomma con il Comune di Pinerolo pensato a dei luoghi da riqualificare, oltre che all'interno dell'istituto comprensivo 1 e dell'istituto Porro e l'ha messa in rete con altre realtà che anche loro lavorano sulla comunità educante e quindi faranno un viaggio a Scampia per mettere in relazione il nostro progetto con i loro. Questo a grandi linee è il progetto. Chiaro, quindi insomma fare rete, creare relazioni sia dal punto di vista strettamente fisico, quindi andandosi a trovare, incontrandosi, collaborando, ma anche appunto dal punto di vista virtuale, digitale che insomma spesso viene dipinto effettivamente per certi versi vero come qualcosa che invece ci allontana, non un po', annulla un po' le relazioni o comunque le rende un po' più complicate ma dipende un po' sempre da come si usa lo strumento e quindi passiamo proprio a ragionare dei patti digitali. Sì, allora io sono Alessandra Picco, cooperativa Kronos e noi siamo partner appunto di In Viaggio con Clara. L'idea dei patti digitali è nata all'interno del tavolo dei partner proprio per dare una svolta rispetto all'utilizzo delle tecnologie digitali, soprattutto perché insomma non siamo qua per demonizzare le tecnologie digitali ma per farne buon uso. Nel 2022 l'Università Cattolica di Milano ha iniziato a fare tutta una serie di lavori rispetto a questa parte qua dei patti digitali e successivamente nel corso degli anni, insomma nel bienio fra il 2022 e il 2024, do i numeri giusti perché è importante, sono nati sul territorio italiano 40 intese. Le intese sono fatte sempre all'interno di comuni in cui si vede la partnership dei comuni in prima battuta di associazioni di genitori, di scuole e questo per portare avanti come dire questo discorso qua che è un po' complicato perché sembra una roba un po' montata così e che sminuisce come dicevo prima ma in realtà dovrebbe dare alcune linee precise di indicazione rispetto a un sano utilizzo della tecnologia. Quindi i cardini di questa cosa li leggo perché così almeno siamo precisi nell'esposizione sono sia la tecnologia nei tempi giusti, preparare all'autonomia digitale e dare delle regole chiare e come dire sostenere un dialogo rispetto a questo e rendere soprattutto gli adulti responsabili ed informati perché è da lì che deve partire poi diciamo la cascata sui nostri giovani. E quindi gli adulti intesi come famiglia, comunità educante perché come dire a noi interessa che sia tutta la comunità a occuparsi e soprattutto anche la scuola. Quindi mi sembra l'approccio più complicato da chi se lo pone ma forse anche quello più preciso, specifico perché in questo momento ci si divide un po' fra due idee, un po' il lassismo, cioè pazienza impareranno oppure forse ancora peggiore l'oscurantismo, cioè vietiamo, non facciamo usare, non facciamo... Invece la via di mezzo che immagino appunto sia complicata da gestire caso per caso, classe per casa, luogo per luogo però forse in realtà è l'unica strada concreta e utile. Sì, questa è la cosa che noi auspichiamo che avvenga proprio perché come dire ci si muove su un terreno molto delicato perché ripeto non vuol dire no alla tecnologia ma vuol dire avere un uso diciamo appropriato ecco e a tal proposito il comune di Pinerolo ha lanciato la consulta. E quindi passiamo appunto al coinvolgimento di Pinerolo, quindi uno dei tanti luoghi che sono coinvolti in tutto questo, in che modo? Allora intanto buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, io sono Lia Bianco, una consigliera comunale di Pinerolo con alcune deleghe e un viaggio con Clara fa parte di questi miei compiti e ne approfitto per portare il saluto dell'amministrazione. Allora in che modo? Intanto noi siamo partner del progetto e quindi quando in viaggio con Clara ha preso anche questa declinazione, questa strada ci siamo subito interrogati come il comune, quindi come la politica, come l'istituzione potesse essere utile non soltanto con una semplice firma di parnerariato ma attivamente. E devo dire che siamo particolarmente orgogliosi di dire che è vero che le intese sono tante in Italia ma forse la nostra, senza il forse, è la prima che vede il comune di Pinerolo coinvolto attivamente. Come si è attivato attivamente? Con l'istituzione di una consulta, che cos'è la consulta? Il comune di Pinerolo ha in particolar modo da due consigliature a questa parte l'istituzione delle consulte quindi gruppi di persone, di cittadini che non fanno parte della vita politica pinerolese quindi non sono amministratori ma che si avvicinano a particolari tematiche che impattano in qualche modo sulla vita della città, sulla vita di cittadini e cittadine. Quindi l'intuizione di questa amministrazione è in particolar modo dell'assessore Luigi Carignano che non è qui stamattina ma che ovviamente ringraziamo perché questa sistemazione qui è grazie a lui il fatto che ci possiamo mettere insieme diverse entità della città e la consulta quindi ha visto la partecipazione e questo ci ha resi veramente molto molto contenti la partecipazione di 30 cittadini e sono tantissimi che hanno appunto chiesto di poter far parte della consulta che verrà la prima riunione della consulta, l'insediamento della consulta sarà il 26 settembre alle ore 20 presso la sala consigliare, è aperta a tutti quindi è anche un invito alla cittadinanza a venire a mettere un po' il naso e perché c'è stato questo tipo di impegno? Perché noi crediamo fortemente nella comunità educante come valore politico la comunità educante non deve essere soltanto un'etichetta che sta scritta nei progetti ma deve essere fatta dalla comunità e la comunità è la nostra città fatta di associazioni, fatta di genitori, fatta di medici, fatta di educatori, fatta di scuola di tutte quelle entità che entrano a contatto con i nostri bambini, con le nostre bambine con i nostri ragazzi, con le nostre ragazze e che hanno il compito e la responsabilità grande di accompagnarli verso il loro diventare cittadini e cittadine consapevoli e noi teniamo tanto alla consapevolezza quindi l'istituzione di una consulta serve proprio per andare ad individuare quali possono essere le regole che una comunità si dà perché la comunità stessa possa crescere in maniera sana e consapevole chiaro quindi insomma non qualcosa che viene imposto e che viene insomma si scrive un documento e basta ci tengo solo a precisare perché siamo molto contenti di questo che all'interno della consulta le persone che si sono candidate rappresentano davvero tutta la comunità dagli oratori alle società sportive, al mondo della scuola, al mondo dei cittadini che semplicemente si interessano all'argomento e sentono un po' il peso e la responsabilità di avere un'azione educativa verso i ragazzi ma anche persone che fino a ieri hanno rivestito ruoli al centro dell'attenzione pinerolese che stanno andando in pensione e che hanno deciso di regalare alla propria comunità le loro competenze hai citato scuola e quindi direi che andiamo a non a chiudere il cerchio perché insomma si parla di un progetto che guarda decisamente in avanti ma c'è appunto proprio la fascia d'età protagonista di tutto questo di tutto questo discorso ovvero appunto i ragazzi i minori e quindi insomma come gli andiamo incontro buongiorno sono Loredana Grabbi volontaria della cooperativa Mafalda esprimo certamente a nome di tutto il gruppo di progetto la gratitudine al comune di Pinerolo per aver dato una cornice istituzionale non formale ma soprattutto sostanziale tra l'altro della consulta ricordo fanno parte anche professionisti della salute mentale dei minori e quindi abbiamo veramente la garanzia che questo organo possa fare un ottimo lavoro per tutelare i minori tuttavia quello che emerge da queste cose che sono state dette può lasciare un po' stupiti perché abbiamo tanto parlato di adulti che si sono attivati per tutelare la salute mentale il benessere in generale dei giovani e con loro di tutta la comunità di tutta la società ma nessuno ha parlato dei giovani io invece li porto in primo piano perché intanto da almeno 30 anni la convenzione sui diritti dell'infanzia dell'ONU raccomanda di avere sempre una particolare attenzione per le visioni dei minori per consultarli soprattutto quando si devono prendere delle decisioni che li riguardano direttamente tuttavia le nostre società non sono molto abituate a lavorare in questo modo soprattutto in Italia nonostante in questi 30 anni abbiano molto insistito parecchie istituzioni parliamo del garante per l'infanzia e l'adolescenza parliamo di numerose commissioni del Parlamento europeo ma poi anche di professionisti della salute mentale parliamo di psicologi o se volete di pedagogisti se vogliamo avvicinarci di più alla scuola quindi noi cosa vogliamo fare? Vogliamo lavorare in contesti informali con ragazze e ragazzi ascoltare quella che è la loro visione del mondo digitale e sentire da loro come riterrebbero di poter risolvere i problemi che si sono man mano presentati quali la dipendenza, un uso eccessivo, i danni che possono comportare a livello cerebrale e così via abbiamo già iniziato devo dire quest'estate con un'esperienza molto positiva condotta in due oratori della città che ci ha permesso di lanciare un sondaggio e raccogliere le risposte di più di 100 ragazzi i quali hanno risposto dicendoci quali erano secondo loro gli aspetti negativi e gli aspetti positivi di dispositivi digitali, internet, social e videogiochi e devo dire che non è stata una sorpresa perché io ho sempre molto creduto nell'intelligenza e nella capacità e nella consapevolezza dei giovani però abbiamo toccato con mano che le loro risposte sono orientate a una consistente consapevolezza dei rischi che corrono con un abuso dei mezzi digitali questo risultato è molto incoraggiante, intenderemmo portarlo avanti nel corso di quest'anno in altri contesti informali della città, questo è solo un piccolo esempio di quello che si può fare però vorremmo arrivare ad un risultato costruire un gruppo di ragazze e ragazzi che lavorino a fianco della consulta comunale in modo tale che i parti digitali che verranno realizzati siano realmente condivisi attraverso il protagonismo dei giovani giovani che devono essere ascoltati senza essere giudicati giovani dei quali bisogna accogliere e valorizzare le proposte in modo tale che se arriveremo a formulare delle regole queste regole siano davvero condivise cioè siano il frutto di riflessioni di adulti ma anche di adolescenti credo che questo sia l'unico modo per averle poi accettate e rispettate grazie grazie mille davvero insomma molto complicato stringere tutta questa storia in così pochi minuti per saperne qualcosa di più molto rapidamente si può leggere qualcosa? allora noi pubblichiamo periodicamente sui social di progetto su facebook in viaggio con Clara e su instagram viaggio con Clara pubblichiamo gli aggiornamenti di questi nostri percorsi poi se volete invece leggere degli articoli un po' più lunghi un po' più elaborati anche approfonditi sul sito di con i bambini ci sono i blog di progetto e troverete il progetto in viaggio con Clara dove sui fatti digitali è già stato pubblicato un articolo e certamente ne verranno pubblicati altri chiaro quindi insomma si può scoprire qualcosa di più grazie mille grazie mille davvero grazie a voi grazie mille grazie grazie mille grazie a voi Grazie.